Grazie a tutti. È una vicenda di sottrazione di soldi dalle casse del Comune, di concussione ed abuso d'ufficio e di un uso poi di questi soldi che erano fondi pubblici ed anche della comunità europea estremamente spregiudicato fino ad essere sbalorditivo se si pensa che 98.000 dei 340.000 euro sottratti sono stati usati per giocare online anche su piattaforme illecite. Il sindaco di Palizzi, due consiglieri comunali, l'ex vicesindaco, un tabaccaio che era il tramite perché si usavano i voucher lavoro per accumulare le somme sono stati coinvolti in questa operazione. Il sindaco è stato arrestato e posto ai domiciliari così come i due consiglieri comunali, uno dei quali ancora sembra non sia in Calabria e attivamente ricercato. Ricostruiamo la vicenda nel servizio che segue. Il sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, 56 anni, e due consiglieri comunali sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta denominata Affare Comune nei confronti di quattro persone ritenute responsabili a vario titolo e con la complicità di altre 21 dei reati di concussione e corruzione. A Scerbo e ai due consiglieri comunali vengono contestati i reati di abuso d'ufficio, peculato, induzione in debita a dare o promettere utilità, falsità ideologica e tentata truffa ai danni dello Stato. I tre amministratori pubblici, con la complicità di altri indagati, fra i quali consiglieri di missionari e dipendenti dell'ente, avrebbero usato le casse del Comune come un banco, ma temettendo mandati di pagamento per rimborsi spese gonfiati a proprio favore, per liquidare a terzi prestazioni mai eseguite o per prestazioni diverse da quelle per cui i fondi erano stati stanziati. Il danno per le casse dell'amministrazione comunale sarebbe di circa 340 mila euro. Il consigliere comunale di maggioranza coinvolto nell'operazione è Antonino Proietto, 37 anni, mentre il terzo al momento non è ancora stato rintracciato. L'unico degli indagati per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere è Luigi Palumbo, 40 anni, titolare di un bar ricevitoria a Parizi. Palumbo sarebbe stato uno dei maggiori responsabili della sottrazione di somme alle casse comunali. In sostanza, usando il sistema dei voucher lavoro, pagati per prestazioni inesistenti, i tre amministratori hanno accumulato un tesoretto che poi ritiravano grazie alla complicità del tabaccaio, acquistando i buoni a spese del Comune. Tra gli indagati c'è anche l'ex vice sindaco di Palizzi, Davide Plutino, che si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 98 mila euro, quasi interamente destinati al gioco d'azzardo online, talvolta anche attraverso piattaforme di gioco illecite. Plutino si è dimesso dalla carica di vice sindaco e consigliere comunale a seguito delle perquisizioni effettuate dai carabinieri il 12 ottobre 2016, sia negli uffici del Comune che nelle abitazioni di alcuni indagati. Dall'indagine sono emersi dettagli sconcertanti circa l'uso che veniva fatto dei soldi pubblici. Erano stati quasi del tutto sottratti allo scopo per il quale erano stati assegnati gli oltre 83 mila euro di fondi europei destinati a finanziare il progetto Life Caretta per il soccorso e il recupero delle tartarughe marine ferite lungo tutto il litorale ionico che vedeva il Comune di Palizzi come capofila e che era stato attivato a seguito della costituzione del centro Tartanetta Brancaleone. In realtà la somma sarebbe stata prosciugata ed una parte residuale sarebbe stata usata per pagare manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune, come il Palizzi International Film Festival. Ma un tassello fondamentale delle indagini è stato il riscontro di gravi illeciti nella gestione dell'emergenza migranti. Da marzo a dicembre 2016, nell'ostello della gioventù della frazione montana di Pietrapennata, il Comune di Palizzi aveva allestito un centro di accoglienza che ha ospitato complessivamente un centinaio di persone. Ed il 5 maggio 2016 il sindaco Scerbo era stato ospite in collegamento della trasmissione televisiva Porta a Porta e parlando con Bruno Vespa aveva elogiato l'operato della propria amministrazione, a suo dire sensibile al tema dell'accoglienza. In quella sede, inoltre, il sindaco aveva annunciato il progetto di avviare una serie di iniziative a favore degli immigrati per favorirne l'integrazione. Ma dalle indagini è venuto fuori che l'attività di accoglienza in realtà non è stata altro che uno strumento per realizzare interessi personali ed illeciti. Il Comune aveva incaricato una cooperativa per gestire l'emergenza migranti, ma secondo i carabinieri si è trattato solo di un espediente per chiedere alla Prefettura di Reggio Calabria il rimborso spese per 105.000 euro, a fronte di prestazioni solo in parte eseguite ed impiegando abusivamente personale mai contrattualizzato e mai retribuito, mentre sarebbero state pagate solo le somme relative al carburante per le auto private dello stesso personale. Dagli accertamenti è stato riscontrato come gli importi di numerose fatture siano stati gonfiati per trarne un ingiusto profitto. Ad esempio, il numero di pasti da fatturare per gli immigrati non veniva stabilito in ragione delle reali necessità, ma deciso a tavolino è quantificato in misura sovrabbondante rispetto alle esigenze e affidato direttamente ed arbitrariamente al ristorante di cui è proprietario il consigliere comunale di maggioranza Antonino Proietto, che è una delle persone finite agli arresti domiciliari. La notizia è di poco fa. I carabinieri forestali del gruppo di Cosenza e quelli del comando provinciale di Cosenza stanno eseguendo un sequestro d'urgenza emesso dalla Procura di Castrovillari i fatti riguardano l'alluvione del 2015 per essere però già precisi. Dicevo, un sequestro d'urgenza emesso dalla Procura di Castrovillari su oltre 100 tra terreni agricoli, manufatti e fabbricati ubicati negli alvei dei fiumi e nelle fasce di rispetto delle aree a rischio idrogeologico di Rossano e di Corigliano. L'operazione denominata Flumen Luto scaturisce proprio da quello che accade dai danni che il territorio ebbe dopo l'alluvione del 2015 ricorderete proprio nei giorni precedenti, il ferragosto 2015 a Corigliano ed a Rossano esondarono i corsi d'acqua e i danni furono materiali, furono notevoli per fortuna non si registrarono vittime. Le persone indagate nell'inchiesta sono 195 tra appartenenti alla pubblica amministrazione non si sa ancora se ci siano esponenti politici in particolare anche componenti le giunte comunali all'epoca dei comuni di Corigliano e Rossano che come sappiamo adesso formano un comune unico e poi imprenditori edili e cittadini. Domani mattina è in programma una conferenza stampa a Cosenza nella corso della quale i particolari di questa inchiesta saranno illustrati dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, vi ho detto che il decreto di sequestro d'urgenza è stato emesso proprio dalla procura di Castrovillari e dal procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini. La divisione investigativa antimafia di Firenze ha confiscato, quindi definitivamente confiscato beni per 2 milioni di euro a Nicola Callea, un imprenditore calabrese che da molti anni è attivo a Firenze nel settore della ristorazione e che in passato è stato condannato per traffico di cocaina e per legami con appartenenti a Cosche di Reggio Calabria in particolare all'andrina degli Arcoti ovvero alle andrine del quartiere Archie di Reggio Calabria Nel 2016 il Tribunale di Firenze sempre su proposta della divisione investigativa antimafia aveva sequestrato 3 unità immobiliari nel centro storico di Firenze le state vedendo si tratta di un appartamento di pregio e di 2 fondi commerciali nei quali sono ubicati altrettanti ristoranti l'imprenditore, cioè Callea, aveva presentato ricorso contro questo provvedimento era spinto però il ricorso dalla Corte d'Appello di Firenze nel febbraio del 2017 e un mese fa anche dalla Corte di Cassazione ecco perché si è potuto dar luogo alla confisca la divisione investigativa antimafia fiorentina pertanto data esecuzione alla sentenza che dispone il definitivo passaggio di questo appartamento e dei due ristoranti al patrimonio dello Stato nel provvedimento fra l'altro della DIA era stato evidenziato come negli anni immediatamente successivi alla commissione dei reati di droga Callea era scomparso così era scritto scompariva sul piano fiscale e cessava di presentare dichiarazioni dei redditi spogliando al contempo solo apparentemente l'intero nucleo familiare di tutti i beni adesso riconducibili quindi ripeto la respinta il rispingimento meglio ancora del ricorso da parte della Corte d'Appello di Firenze nel febbraio del 2017 e poi da parte della Corte di Cassazione hanno portato alla confisca di oggi verranno rimossi entro il 13 luglio i cantieri mobili sulla Salerno-Reggio Calabria e questo naturalmente per favorire gli spostamenti dei vacanzieri in modo particolare dei molti calabresi ma anche siciliani che ritornano a casa per l'estate per evitare impatti sul traffico durante l'esodo come è accaduto durante gli anni precedenti i cantieri, rende noto l'ANAS saranno completamente rimossi entro il 13 luglio in concomitanza con l'aumento dei flussi veicolari diretti verso le località di mare si prevede infatti che non questo ma il prossimo fine settimana sarà già il primo weekend di esodo tutte le attività di manutenzione programmata fa sapere l'ANAS con un comunicato riprenderanno a partire dal mese di settembre era un po' un controsenso se si pensa che non c'era un istituto di biologia marina in Calabria c'è però da dire che gli istituti di biologia marina al mondo sono pochissimi c'è quello di Napoli che è antico e al quale l'istituto calabrese comunque si rifà l'inaugurazione avverrà tra qualche tempo intanto il progetto è stato presentato l'istituto a tutti gli effetti apre è stata individuata la sede che sarà posta ad Amendolara dove c'è una delle più note sacche del Mediterraneo e è stato chiamato a presiedere l'istituto di biologia marina in Calabria il professor Silvio Greco sul quale ritengo non possano esserci dubbi né per quanto riguarda la competenza e la trasparenza né ancora sullo spessore della figura dello studioso del ricercatore, del biologo del docente universitario fra le altre cose aggiungo dell'eccellente divulgatore perché ha dimostrato proprio in televisione su Rai 1 di essere bravo anche da quel punto di vista e allora ripeto il progetto è stato presentato a Catanzaro presso la cittadella regionale La Calabria apre la sede regionale dell'istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine sarà a Amendolara centro dell'Alto Ionio la cittadina che ospiterà il laboratorio in effetti la regione aveva bisogno di un istituto pubblico di ricerca sul mare sia per la sua conformazione geografica caratterizzata da 830 km di costa sia per la straordinaria ricchezza della biodiversità marina e dopo l'individuazione della sede si sta già lavorando alla firma di una convenzione che sancisca la collaborazione tra la regione e la stazione zoologica che darebbe il supporto scientifico necessario a valorizzare e conservare l'immenso patrimonio subacqueo dei mari calabresi dalle foreste di corallo nero ai cavallucci marini un altro aspetto sarà quello di fornire alle amministrazioni locali i risultati degli studi ed i necessari suggerimenti su pesca acquacoltura erosione inquinamento per gestire in maniera integrata la fascia costiera a guidare il progetto è stato chiamato Silvio Greco biologo oceanologo ricercatore docente universitario fra l'altro membro del consiglio direttivo della società italiana di biologia marina e delegato italiano della commissione internazionale per lo studio del Mediterraneo la competenza e l'esperienza del professore rappresentano più di una garanzia anche in vista di un piano di reclutamento rivolto ai giovani ricercatori calabresi formati sia all'estero per invitarli a tornare non solo nel loro paese ma addirittura nella loro terra d'origine la sfida diventa importante perché la Calabria dal punto di vista della biodiversità marina è importante basta pensare oltre gli 830 km di costa oltre il 17% di biodiversità marina insomma quindi è un hotspot di biodiversità unico abbiamo alcune alcune situazioni di grande interesse che bisogna tutelare che bisogna ancora studiare penso alle foreste di Corallo Nero ai cavallucci di Soverato alla secca di Mendolara non per niente proprio da Mendolara apriamo un laboratorio che noi pensiamo di fare una serie di laboratori sia sul terreno che sullo Ionio iniziamo anche sullo Ionio perché il mar Ionio è uno dei mari meno studiati del Mediterraneo ed è uno dei più importanti specialmente dal punto di vista dei cambiamenti climatici i parchi e le aree marine protette saranno ovviamente al centro del progetto di valorizzazione e monitoraggio degli habitat naturali e per il lavoro di studio già avviato sulla poseidonia per l'assessore all'ambiente Rizzo si tratta anche di un'opportunità per offrire lavoro e specializzazione ai giovani calabresi vogliamo partire dalla valorizzazione della poseidonia ma naturalmente rivolgerci poi a tutti gli altri habitat naturali marini e quindi la specializzazione la professionalità del professore greco ci dà una qualità eccezionale ed una garanzia di un ottimo lavoro servirà anche a portare i giovani calabresi a restare in Calabria e a specializzarsi proprio in questo ambito il professore greco diceva prima che uno dei suoi sogni è quello di portare dei calabresi dei giovani calabresi che studiano all'estero e che lavorano all'estero quindi delle menti importanti di nuovi in Calabria proprio perché possono collaborare con lui per il presidente della regione Oliverio l'istituto consentirà di svolgere un ruolo attivo per valorizzare il patrimonio calabrese e per farne un attrattore turistico intercettando la speciale domanda rappresentata dagli appassionati del mondo subacqueo abbiamo una presenza di biodiversità nel nostro mare che è appunto una ricchezza a livello mondiale sulla quale appunto bisogna esercitare non solo una attenzione attraverso la ricerca ma anche attraverso la valorizzazione in questo senso noi pensiamo che l'istituto può svolgere un ruolo importante per che in coordinamento con la regione con le università calabresi possa come dire emergere all'attenzione internazionale quella che è questo patrimonio di inestimabile di inestimabile e riconosciuto valore dal punto di vista scientifico dei sub dagli amatori per la notizia è di un paio di ore fa e i tifosi del crotone la attendevano da parecchio e con ansia inizierà il 19 luglio davanti al tribunale federale il processo a Chievo e Cesena le due società che sono state deferite per plusvalenze fittizie processo che vedrà sul banco degli imputati i presidenti delle due società Campedelli del Chievo e Lugaresi del Cesena e gli interi consigli d'amministrazione di tutte e due le società illeciti amministrativi l'aumento dei valori dei calciatori per gonfiare i patrimoni e dunque per truccare i bilanci che avrebbero consentito per esempio al Chievo di potersi iscrivere avendo cioè la certificazione della commissione di vigilanza sulle società di calcio agli ultimi tre campionati nella stagione e nelle stagioni 16, 17 e 18 per intenderci uno scandalo che potrebbe avere ripercussioni anche sull'assetto dei campionati e sulla compilazione dei calendari anzi mi sbilancio e dico che secondo me i calendari che di solito si compilano a fine luglio quest'anno saranno compilati accade peraltro anche due anni fa e non solo due anni fa non è una novità in assoluto con le classiche X ed Y al posto dei nomi delle squadre i due club chiede il Cesena se sarebbero scambiati calciatori per cifre assolutamente fuori mercato considerato poi anche che molti calciatori erano giovanissimi che poi alcuni non hanno proseguito la carriera o addirittura hanno cambiato mestiero sono finiti a giocare nei campionati dilettantistici il processo dovrebbe durare alcuni giorni di solito non più di 4 o 5 e l'eventuale appello sarebbe discusso all'inizio di agosto non è ancora certo ma il Crotone potrebbe costituirsi secondo quanto scrive Crotone News punto com parte civile nel processo chiedendo la riammissione in serie A se ovviamente il Chievo dovesse essere penalizzato domani sera domani sera nuovo appuntamento ed è il primo di spettacolo puro con nella diciottesima edizione scusate di Armonie d'Arte Festival quest'anno ricorrono i 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini e allora Elio senza le storie tese e Francesco Micheli che è un grandissimo esperto di musica che ha scritto il soggetto e la regia faranno questo omaggio fra l'altro col sostegno della fondazione Luciano Pavarotti lo spettacolo è stato allestito e sta girando il nostro paese faranno questo omaggio a Gioacchino Rossini nello splendido scenario del Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia Chiara Giordano direttrice artistica del festival ci presenta l'iniziativa in anteprima ripeto domani sera l'appuntamento qui al Parco Scolacium Armonie d'Arte Festival vi aspetta venerdì 6 alle ore 22 come sempre con uno spettacolo sorprendente fantasioso con l'estro di Elio senza le storie tese in questo caso e con Francesco Micheli uno spettacolo dedicato all'opera lirica ma non solo per gli amanti dell'opera lirica perché questa vecchia signora che è stato il mezzo di comunicazione fino a qualche secolo fa più potente giocherà con la televisione con internet con il cinema insomma uno spettacolo assolutamente insolito un momento divertente qui al Parco Scolacium tutto su armoniedarte.com appuntamento a venerdì sera il 6 con voi ciao e noi ci fermiamo qui oggi Francesca Rettondini mi sembra fosse ancora cutro non vorrei sbagliare ma comunque se è così correggetemi prima della fine però Petrizi Petrizi ringraziamo Francesco Torromino in messa in onda allora Petrizi oggi e chiedo scusa anche perché la puntata di Cutro è stata effettivamente ieri oggi a Petrizi il viaggio di Francesca ha fatto tappa dunque nel Soveratese lungo ancora l'entroterra diciamo così della costiera ionica calabrese e noi ci rivediamo alle 19 e 10 vi lascio dopo la sigla e la pubblicità in compagnia del viaggio di Francesca grazie per averci seguito grazie a tutti